no ma devi durare tipo 10 minuti e poi lo punti dov'è? si apre là? ma io vedo male prendi male? no, non vedo no, non vedo e il cerchietto come ce lo faccio però? il cerchietto rosso come ce lo faccio? il cerchietto rosso come ce lo faccio? il figlio? il figlio? devo mettere giù tutti i fotogrammi allora quando prendiamo parlate anche voi del metallaro di un quarto verde il segretario questa è tirato da un quarto dove c'è sempre solo il dame e non si pagare non è solo per la bandana è stata da il fondo e non è solo per la bandana ma è un'ora che è in casa questo è un'ora che è in casa ma è qualcosa? se volete spazio ombra ma si sta riducendo E' veramente futuroizzato questo, è tornato. Non mi piacevo, perché ce l'hanno la soglia, poi io vado un cazzo, non mi fanno guarda. Mi sta pensando che potrebbe pensare. Non mi piacevo, mi piacevo. Non mi piacevo, non mi piacevo. Non mi piacevo. Non mi piacevole. Non mi piacevole, non mi piacevole, non mi piacevole. Beh dai, erano più avanti di noi ci vuole. E' un tristeo!